e ribon salve gente come sempre io sono t shark e sono ritornato si lo so dopo due settimane mi dispiace però sono ritornato qui sul canale ragazzi con un nuovo beatbox tutorial sono le 7 di sera sono in pigiama i miei capelli ormai fra poco avranno vita propria prendono si staccano e se ne vanno fuori dai coglioni però poco importa perché sono tornato con un nuovo beatbox tutorial essendo che so che a voi piace quando io torno con i beatbox tutorial sul canale ho deciso di tornare appunto con un beatbox tutorial ho detto più volte in questi ultimi 30 secondi beatbox tutorial che in tutti i 70 video che ho fatto fino adesso su tutto il canale ma passiamo subito al tutorial oggi ragazzi ritorno con una nuovissima combo che però tanto nuovissima non è perché si va a collegare ad uno degli ultimi tutorial che vi ho portato sul canale più plecisa... sì, precisamente più precisamente a quello del beatbox reggaeton perché ho visto che comunque vi è piaciuto abbastanza e ho deciso di portarvi anche questa nuova combo sempre in stile reggaeton la combo sarà molto semplice sarà come sempre alla portata di tutti perché useremo i suoni che abbiamo imparato all'inizio i primi suoni base che alla fine non ne useremo neanche tanti saranno due o tre suoni al massimo ve la presento subito senza tirarla troppo per le lunghe oggi non so parlare è molto semplice non è un cazzo di difficoltà non dire la roaccia lo chiamo la polizia però a mio avviso già modificando la velocità allenandosi prima di tutto come su tutte le combo che vi ho insegnato fino adesso a farle piano anche questa bisogna prima di tutto imparare a farla lentamente poi anche solo velocizzandola secondo me, a mio parere diventa una cosa abbastanza figa che diventerebbe una cosa del genere avete visto che è molto figa cioè, per me, secondo il mio parere secondo i miei gusti è molto bella anche solo velocizzandola figa, spacchiamo tutto dopodiché, come sempre ormai vi sto ripetendo da un anno un anno e mezzo ormai che siamo qua sul canale e abbiamo cominciato a fare video serie su questo benedetto canale dopo averla studiata e imparata potete farci quel cazzo che volete potete buttarla via non usarla più oppure potete portarla avanti aggiungerci suoni sopra veramente oggi non lo so che cazzo mi sta succedendo forse anche per il mal di gola ma oggi non so parlare e niente ragazzi avete visto che non è difficile ve la rifaccio un'ultima volta prima di chiudere il video avete visto che non è difficile ci potete riuscire tranquillamente tutti e con questo è tutto ragazzi quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre voi commentate condividete prima di chiudere il video volevo salutare Giorgio Simeon che mi aveva chiesto nell'ultimo video molto probabilmente di salutarlo ciao vi abbraccio e vi mando anche una carezza volevo fargli auguri al piccolo cactus che glielo ho già fatti tramite messaggio però li rifaccio anche qui sul tubo perché ci sta e niente ragazzi come solito voi commentate condividete mettete like mettete dislike fate tutto quel cazzo che volete ragazzi e noi ci rivediamo al prossimo Big Box Tutorial